Buonasera, questo video per fare la consuetta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali, questa volta a fine settimana, oggi venerdì 2 giugno, oltretutto sono le 18 e quindi siamo ormai in conclusione di sedute, alcuni mercati azionari hanno già chiuso. Partirei come al solito dalla borsa italiana, dal nostro Future Futsimib, che sono due sedute, quindi questo finale di settimana molto reattivo, che sta avendo un movimento fortemente rialzista. Sono diversi gli aspetti positivi che devono essere sottolineati, innanzitutto abbiamo rotto a rialzo, superato quindi la media mobile a 25 e soprattutto raggiunto ancora una volta l'importante livello 27.000 e quindi ci avviciniamo pian piano a quel 27.600 in alto dove c'è il passaggio dell'indicatore supertrend che fa da resistenza. Quindi il discorso che purtroppo negli ultimi dieci giorni abbiamo dovuto abbandonare, che era quello di dire torneremo verso 27.600, in realtà si ripropone per quanto riguarda la prossima settimana. Adesso sono due giornate molto positive per cui non mancherà un eventuale ritracciamento, un eventuale ritorno anche attorno al 26.750 e così via, ma diciamo che abbiamo rialzato la testa, il peggio è alle spalle e quindi siamo diretti questa volta definitivamente direi verso il livello 27.600 dopo aver scampato il pericolo qualche seduta fa dove ci siamo avvicinati pericolosamente a 26.000. Quindi obiettivo 27.600, non so se raggiungerà la prossima settimana, spero la prossima, poi lì dovrebbe esserci, ne sono abbastanza convinto e confidente, un bel breakout e fare in modo che il nostro future possa tornare a 28.000, cioè alle stesse quotazioni di inizio marzo. Quindi abbiamo il vento in poppa, sfruttiamolo con operazioni che dovrebbero essere più vantaggiose a quelle long. Situazione analoga come si vede graficamente anche sul future DAX, anche qui identico, abbiamo superato proprio oggi la media mobile a 25, siamo tornati ancora una volta sopra il livello 16.000, ma il DAX è decisamente più forte rispetto al mercato italiano, basti pensare che una quindicina di giorni fa ha addirittura abbattuto il proprio massimo storico, direi che è uno dei pochi mercati che l'ha fatto, per cui direi che qui non ci sono assolutamente problemi, quindi sicuramente un'operatività long da cavalcare sempre. Ripeto, non mancherà qualche giornata di negatività, qualche ritracciamento, come è fisiologico che sia nella ciclicità del mercato, però insomma direi che anche in questo caso il peggio è alle spalle e del mercato può andare anche, non dico la prossima settimana, ma nelle prossime addirittura abbattere un'altra volta il massimo storico, che è una cosa davvero molto importante e che va sottolineata e indicativa di questo DAX, che è tornato dopo qualche anno di crisi o comunque di debolezza decisamente più forte e leader assolutamente in Europa. Poi qualcuno mi dirà, però la Germania è entrata in recessione, è vero, però noi non facciamo trading sui dati del PIL trimestrale, noi facciamo trading sulle quotazioni di borsa e se le quotazioni di borsa sono queste, se in questo momento sta quotando 16.046 vuol dire che il DAX vale 16.046. al di là di tutti i ragionamenti pur corretti e macroeconomici che si possono fare, però se il mercato dice un'altra cosa, io faccio trading su DAX, a me interessano questi numeri e non quelli del PIL. Benissimo lo Standard & Poor's 500, dando uno sguardo a quello che succede oltre Oceano a Uovo Street, oggi ha rotto, superato anche il livello intermedio, in realtà era abbastanza debole, del 4.250 e si sta dirigendo con questa bella giornata verso il 4.300, dove c'è la prossima resistenza. Dal punto di vista grafico la situazione è molto simile ovviamente a quello europeo, con queste ultime due sedute molto positive, derivante dalla notizia ovviamente americana del non scontro politico sull'innalzamento del tetto del debito, che ovviamente è stata presa molto bene, anche se in realtà era una notizia assolutamente aspettata e quasi scontata, però la notizia è stata data, anche il Senato dopo la Cava hanno provato questo e quindi c'è la certificazione di non problemi sul deficit americano, sull'eventuale ipotetico, ma insomma neanche da pensare default americano riguardo al debito. Comunque il mercato l'ha presa particolarmente bene e si sta dirigendo verso la resistenza del 4.300. L'unica differenza rispetto alle borse europee è che qui siamo già, non ci siamo andati oggi, ma c'eravamo già da diverse sedute al di sopra di tutti i principali indicatori, Media Mobile, Parabolic SAR e Super Trend, quindi eravamo già impostati al rialzo, probabilmente era già, come dicevo prima, scontata questa notizia, quindi duplice positività, era già positivo prima e continuato ad essere positivo dopo. Attenzione al 4.300, però, ormai ci siamo vicini, probabilmente lo raggiungeremo anche la prossima settimana, però lì quella è una resistenza davvero forte e per cui mettermi logo un'altra volta a 4.300 anche su un breakout rischia di essere un falso segnale, per cui molta prudenza, lì in realtà mi aspetto un vistoso ritracciamento. Passando alle commodities, la prima che analizzerei, le crude oil e petrolio, e qui il mercato purtroppo non ci dà molte soddisfazioni. Allora, non è ancora stato raggiunto quel target rialzista che avevo dato la scorsa settimana, che era nell'intorno dei 76 dollari al barile, anzi direi che l'indicatore Super Trend, che è un po' il mio punto di riferimento, si è addirittura abbassato, quindi a questo punto aggiorno il target a 75 dollari al barile, però l'unica cosa dove ho azzeccato l'analisi, basta andare a vedere la registrazione della scorsa settimana, è che questo mercato è molto, ma molto, e sottolineo per la terza volta, molto lento. E quindi si sta muovendo quasi in un 3D range fra il 67,50 e 75. 67,50 e 75. Adesso veniamo da 67,50 al rialzo, e dovremmo stavolta andare un'altra volta verso 75. Certo, non è un ampio 3D range, quindi ristretto, ovviamente non c'è direzionalità, a meno che non verrà rotto 67,50, o non verrà superato al rialzo 75, allora lì potrebbe innescarsi un trend anche più lungo, però al momento abbiamo fondamentalmente una congestione, e possiamo far altro che cavalcare questa congestione. Comunque, ripeto e ribadisco la convenienza a mio parere di continuare ad operare long su questo mercato, perché a mio parere a breve il 75 dovremmo raggiungere. Facciamo in tempo anche adesso, che siamo a 71,60, a comperarlo, ipotizzando nella continuazione di questo mini rialzo, non è un gran rialzo, è qualcosa a rialzo, insomma meglio ovviamente il long che lo short. Passando all'oro, al gold, anche qui il target ribassista che avevo dato la scorsa settimana non è stato raggiunto, avevo dato un obiettivo di 1925, e 1920 ci si è avvicinato molto, ma non lo ha toccato, anzi al contrario ha invertito la rotta, è risalito anche bruscamente, addirittura con un gap, con un gap up quindi indicativo di forza di questo mercato, probabilmente si sentiva attorno al livello 1,935 in una sorta di eccesso di ribasso ed è andato a rialzo, raggiungendo per l'ennesima volta ancora la soglia dei 2.000 dollari l'oncia. Oggi è in ribasso, fisiologico ritracciamento, ma a questo punto l'analisi deve essere cambiata, l'analisi viene ribaltata, perché il mercato mi sta smentendo, non c'è più un ribasso a questo punto sull'oro, questo gap indica forza, quindi il mercato sta andando al rialzo. Presto, quindi anche dalla prossima settimana in poi, mi aspetto un superamento del livello 2.000 e anche il raggiungimento dell'indicatore supertrend, il suo superamento, quindi il breakout rialzista, che possa portare i prezzi nuovamente verso il 2.050. Se la settimana scorsa era negativo, questa settimana sono diventato positivo. D'altro canto bisogna essere abbastanza camaleontici sui mercati finanziari, bisogna sapersi adattare, bisogna saper ammettere anche le analisi errate, saperne formularne di nuove, perché il mercato cambia e dobbiamo cambiare anche noi. Quindi sono diventato a questo punto rialzista sull'oro e anche la giornata di oggi con questo ritracciamento 1975 quasi che mi aspetto in serata, potrebbe essere una buona opportunità di acquisto. Infine, per quanto riguarda il mercato valutario, il principe dei cross, l'euro-dollaro, qui l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata corretta, almeno questo l'abbiamo detto bene, nel senso che il ribasso che si sta realizzando oramai da un mese sull'euro-dollaro dopo una sorta di aria di congestione che poi è diventata una fase di distribuzione nell'intorno un pelo sotto 1,11 effettivamente ha un eccesso di ribasso. Quindi il mercato, a differenza di quello che molti pensavano dovesse andare a 1,05 io no, la settimana scorsa basta vedere la registrazione della video-analisi, abbiamo detto il target più prossimo è 1,06 e 50 dopodiché il mercato dovrebbe fermarsi e rimbalzare. Cosa che ha puntualmente fatto PIP più PIP meno ma non è andato 1,05 ovviamente e si sta tentando di fare un rimbalzo. Ieri giornata molto positiva, oggi ritracciamento ma a mio parere la prossima settimana e le prossime sedute saranno impostate nuovamente al rialzo per un ritorno verso 1,08 e 50 dove passa l'indicatore SuperTel quindi anche in questo caso è mercato che io vedo rialzista nelle prossime sedute. Io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento all'analisi della prossima settimana e come al solito vi auguro buon trading.